E' tempo di turno infrasettimanale in Serie D con la San Cataldese che nella partita valida per la sesta giornata del Girone I si appresta a fare visita alla Gioiese per una sfida delicata e dai tanti significati. Dopo il pari al Mazzola contro il Licata, Calabrese e compagni si presentano a Gioia Tauro con l'intento di dare continuità ai due risultati utili di fila. Un autentico scontro diretto contro la Gioiese a soli tre punti in classifica ottenuti proprio durante l'ultima recita nel derby di Locri. Intanto, alla vigilia della sfida, la San Cataldese ha reso ufficiale l'arrivo dal calcio professionistico di Nicolò Francofonte. Il talentuoso centrocampista è arrivato a San Cataldo a margine di un costante corteggiamento da parte della dirigenza Verdamaranto. Francofonte è cresciuto nelle giovanili di Juventus e Sampdoria. L'esordio in Serie C con la maglia del Gubbio, dove è rimasto per due stagioni. L'ultima esperienza nel Girone C con la casacca della Gelbison, protagonista nel campionato di Lega Pro. Il forte centrocampista, nonostante i suoi 22 anni, rappresenta per la società recita il comunicato della San Cataldese un'importante pedina con spiccate doti calcistiche e di qualità, pronte a dare sostegno alla mediana Verde-Amaranto. La società e tutto lo staff danno il benvenuto a Nicolò Francofonte, sicuri di poter far gioire sin da subito il nostro amatissimo pubblico. Il mercoledì del Girone I presenta un calendario tutt'altro che banale, con il derby siciliano fra il Licata e la Nuova Egea Virtus. Un incontro ravvicinato per vidimare le velleità di alta classifica delle due società sicule. Nella zona calda, la Fenicia Maranto farà visita al Portici, alla ricerca della prima vittoria stagionale, mentre il Siracusa ospiterà la Cireale con l'intento di continuare la luna di miele d'inizio torneo, con la diretta inseguitrice il Trapani, che allo stadio provinciale farà gli onori di casa contro il Real Casalnuovo. Questa la sesta giornata di Serie D, Girone I, mercoledì alle ore 15. Castrovillari Acragas, città di Sant'Agata Locri 1909, Trapani Real Casalnuovo, Gioiese 1918 San Cataldese, Licata Calcio Nuova Egea Virtus, Portici Fenice Amaranto, Ragusa Calcio Canicatti, San Luca La Mezzia Terme, Siracusa Calcio città di Acireale, Vibonese Calcio, un turno di riposo.